Saluto a tutti voi, nel video precedente abbiamo pubblicato video dimostrativo Luci Ambient in questo caso sono Luci Ambient universali, messe per Mercedes, Cruscotto, Sportelli e Tappetini poi il cliente si potrà personalizzare i colori, Cruscotto, Ambient e Sportelli hanno un'app mentre i Tappetini hanno un'altra app, quindi potrà mettere o i stessi colori oppure miscelare i colori a suo piacimento adesso invece parliamo del tablet, perché oltre a Luci Ambient abbiamo eseguito anche il car tablet questa è la dashboard Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Qui possiamo cambiare le impostazioni, mettere quello che preferite, qui siamo su radio, telefono e poi possiamo andare su informazioni di sistema a secondo delle impostazioni che ha la macchina. Possiamo lasciare sottofondo radio e andare direttamente in Android e possiamo lasciare sottofondo musica e usare il navigatore. In questo caso non c'è la retrocamera, per tutti coloro che vogliono installare la retrocamera il car tablet è predisposto, adesso in questo caso non c'è. Poi abbiamo gestione aria condizionata, andremo a visualizzare anche le informazioni direttamente sul tablet.